Ueeh, non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, mamma mia quante novità sono presenti nel video di oggi! Soprattutto derivanti dai nuovi pacchetti decriptati proprio nelle ultime ore del nostro battle! Royal! Nel video di oggi parleremo della nuova skin Da Vinci! Sì ragazzi, sarà disponibile proprio da oggi 24 settembre e andrà a sostituire fra... anzi già sostituisce la skin Iconic che in realtà avrà ancora qualche giorno per essere riscattata! Ma vedremo anche la nuova mappa o meglio ragazzi le nuove location presenti nella mappa perché sono state spoilerate ben 12 nuove location che saranno presenti nella season 11 e ovviamente anche altri leaks riguardanti soprattutto le nuove overtime challenge che sono confermate le sfide quelle a tempo straordinario in poche parole che oramai da due o tre season fanno parte della stagione in corso! Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano il mio codice creator XIUDERONE! Grazie di cuore ragazzi per supportarmi e per guardare anche le mie live su Twitch alla mattina e al pomeriggio mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto... attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima la domandina ragazzi ve la devo fare anche ieri una valanga di commenti proprio qua sotto e allora anche oggi ragazzi ve ne chiedo una ma secondo te cosa succederà nell'evento della season 10? eh sì ragazzi perché in questa season in realtà ci sarà anche l'evento si tratterà molto probabilmente del rocket e anzi parlando proprio di rocket volevo spostarmi direttamente giung giung così velocemente all'immagine alle mie spalle questo ragazzi è un'immagine, una screen dell'ultima fase del rocket sì perché in game è presente finalmente la parte finale possiamo dire oramai che il rocket è completo ve lo voglio molto velocemente far vedere perché merita davvero tantissimo molto molto carino il nuovo rocket eccolo qua e come vedete come in realtà avevamo già spoilerazzato riccato qualche settimana fa il rocket è quasi identico a quello della season numero 4 la storyline ci sta benissimo perché il nuovo scienziato che fa parte di uno dei sette ovviamente come avevano già anticipato nelle descrizioni dei sette appunto ha creato questo nuovo rocket e la cosa in realtà che tutti ci chiediamo è che cosa succederà, che fine farà ieri vi avevo mostrato due schermate di caricamento quelle trovate nelle... che cavolo quelle trovate ragazzi nei file di gioco la prima era questa e in realtà come vi dicevo non si sapeva che cos'era quella luce là dietro la porta ma potrebbe tranquillamente essere la luce emanata dai propulsori del rocket ci starebbe in realtà benissimo come idea e potremmo supporre che queste skin nuove il lama e il cuddle team leader in questa variante ovviamente poco carina potrebbero semplicemente essere le guardie tra virgolette dello scienziato messe appunto lì a proteggere il razzo ma ovviamente l'immagine più incredibile è l'ultima schermata di caricamento della season 10 settimana numero 10 e come vedete i personaggi che salutano il bus della battaglia bisognerebbe interpretarla in questo modo probabilmente stanno salutando l'autobus che li ha appena portati su una nuova mappa a rafforzare l'ipotesi che ci possa essere quasi certamente una nuova mappa nella season che sta per arrivare è appunto l'elenco di queste nuove location che sono state trovate nei file di gioco Beach Blast, Camp Cod, Creative Island, Dirty Dogs, Frenzy Farm, Holy Edge, Lazy Lake, Mountain Needle Power Plants, Larpy Swamp, Sunny Shore e Weeping Woods sono veramente incredibili perché sono tantissime e molto probabilmente vedremo qualcosa di mai visto prima nella storia di Fortnite con l'arrivo il 6 ottobre se non ricordo male della season numero 11 ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento di oggi e da oggi sarà disponibile anche il nuovo pack della Xbox One S di cosa sto parlando? sto parlando ovviamente del Rogue Spider Knight anche questo lo avevamo visto oramai due aggiornamenti fa varianti per la skin del Cavaliere del Ragno lo troveremo nella colorazione verdino grigio e giallo grigio entrambe le skin avranno il proprio backpack quindi lo scudo che le accompagneranno ci saranno delle sfide per sbloccare appunto gli stili extra per la skin il bundle garantirà anche 2000 V-Bucks e a quanto mi risulta sarà gratuito per tutti i possessori di Xbox One S tanta tanta roba dovrebbe essere se non ricordo male anzi posso quasi garantirvi che secondo me il bundle Ion si pagava o comunque era incluso nell'Xbox questo potrebbe essere il primo vero bundle gratuito per chi era già possessore è già possessore di una Xbox One S andiamo avanti però con il prossimo argomento ed ecco qua alle mie spalle un'altra immagine interessantissima un leak veramente molto molto cool che non fa altro che confermare l'arrivo delle overtime challenge le sfide a tempo straordinario già le avete viste o meglio le state vedendo le tre skin che verranno prese in considerazione questa volta e era quasi ovvio si trattasse delle skin principali che hanno avuto la maggior parte di stili in questa stagione parliamo del Lama, del Viaggiatore Oscuro e del Bombarolo Bright Bomber ora ricordatemi il nome in italiano che me lo so scordato ne abbiamo già le immagini un pochettino più ad alta definizione eccolo qua l'ultimo stile della season del Lama nero con il completo dorato molto bello invece questo stile per il Viaggiatore Oscuro che qualcuno suggeriva sembrasse Iron Man invece è veramente molto molto carino e il Bomber eccolo qua ragazzi ultimo stile gli hanno dato 50.000 stili di questa skin quindi tanta tanta roba ragazzi dovrebbero incominciare le sfide il 4 ottobre o il 6 ottobre ora non me lo ricordo perché la season finisce il 6 ottobre ma in realtà la season 11 inizierà l'11 ottobre quindi 5 giorni per fare queste sfide completarle e portarci a casa dei regali ma andiamo avanti ragazzi con l'ultimo probabile argomento di oggi che è proprio il termine della promozione della skin Iconic si doveva finire oggi 24 settembre è stata prolungata di 3 giorni ancora quindi fino al 27 settembre sarà ancora possibile ottenere la skin Iconic sappiamo che la skin Da Vinci quella che arriverà ve l'avevo spoilerata la ragazza con il mantello viola e un emote personalizzata sostituirà la skin Iconic e sembrerebbe che i possessori di questi device il Galaxy Note 10 Note 9 Note 8 S10 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 Plus S10SG S9 Plus A9 A70 A80 A90 il Tab S4 e il Tab S6 avranno la possibilità di ottenerla anche essa gratuitamente non è molto chiara in realtà quest'ultima parte perché io leggevo queste cose ma non sono state confermate non ci serve altro che aspettare un pochettino e capire se sarà così oppure no quindi un'altra skin disponibile e un'altra skin rara che arriverà per i possessori di questi smartphone io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live su Twitch ciao ciao